Un minuto con Padre Pio oggi da questo luogo. Siamo sul balcone della nostra emittente di Teleradio Padre Pio, la sede storica di Via Denunzio numero 13, con questo bellissimo panorama, con la chiesa di San Pio da Pietrelcina. Quante volte è stato qui il nostro caro amico Padre Marciano Morra. Per noi Padre Marciano era un nonno, un nonno che ci raccontava quotidianamente della spiritualità di Padre Pio, ecco come faceva con tutti voi sugli schermi di Padre Pio TV. Padre Marciano per noi era un punto di riferimento, perché sempre ci spronava a fare di più, a dare ancora di più. A vent'anni dalla nascita di questa emittente, Padre Marciano, che l'ha vista crescere, soprattutto ha dato sempre quell'input necessario affinché anche noi crescessimo insieme a Padre Pio. Ecco, lui ci ha raccontato spesso di Padre Pio. Oggi voglio raccontarvi quello che spesso ci raccontava e che raccontava anche a voi. La sua prima volta, quando vide, la prima volta Padre Pio aveva 16 anni, quando venne qui in convento, prima di passare per il noviziato a Morcone. E Padre Pio, quando vide tutti questi ragazzi che dovevano entrare in convento, ecco, si rivolse all'economo del convento e disse, mi raccomando, falli mangiare, perché questa è carne da crescere. Poi, Padre Marciano ci ha raccontato tanti episodi circa la spiritualità di Padre Pio. In modo particolare, ad esempio, ricordo quello legato al fatto che lui ci teneva a spiegarci quanto era importante tenere distante la figura di Padre Pio in chiesa, quindi Padre Pio con le confessioni, quindi con le donne, con gli uomini e Padre Pio sull'altare. Perché diceva, ecco, quando si parlava di Padre Pio burbero, lui ci teneva sempre a sottolineare che Padre Pio non era burbero. Anzi, lui si lamentava soprattutto nei confronti di quelle persone che avevano questa eccessiva devozione, quasi che diventava fanatismo. E Padre Pio si arrabbiava molte volte con delle donne che cercavano di tagliargli l'abito. Ecco, lui ci spiegava questo, ma in modo particolare un giorno ci raccontò quanto era dolce Padre Pio. Ad esempio, lui un giorno fu incaricato dal guardiano di accompagnare Padre Pio per tutto il tragitto che doveva fare per arrivare al confessionale delle donne. E quando stava per arrivare, ecco, Padre Tarcisio, che era dall'altro lato, non riusciva a tenere tutte le donne che spintonavano a destra e a sinistra, e Padre Pio gli disse, ma tu non sei buono proprio a niente, lasciami stare, me la vedo io. E si mise attaccato al Padre Marciano e arrivarono al confessionale. Beh, Padre Tarcisio si allontanò e tornò in sacrestia quasi un po' seccato e rattristato soprattutto dell'atteggiamento di Padre Pio. Ma poi Padre Pio, tornando in sacrestia, andò da Padre Tarcisio, lo abbracciò, gli diede un bacio e disse, scusami, ma ero troppo preso dalle persone che si accalcavano e stavano accanto a me. Ecco, ci spiegava quanto era dolce, quanto era buono, quanto era umile Padre Pio, ecco questa lezione di umiltà con un suo confratello. E poi mi piace raccontarvi un episodio che Padre Marciano spesso ci raccontava e lui diceva questo è un fatto inspiegabile, con me Padre Pio io non ho nulla da raccontare di qualcosa di eccezionale, però questo è un fatto inspiegabile che non mi so spiegare, però fece così. Infatti una volta io eravo nella sua stanza e gli chiesi, ma Padre Marciano, ma c'è un fatto particolare della tua vita con Padre Pio, chissà lo possiamo raccontare nella trasmissione quando ci preparavamo alle nostre dirette. Lui disse, sì questa cosa la possiamo raccontare. Quando un giorno io ero direttore del seminario, quindi qui portavo i ragazzi, i giovani, un giorno dovevo tornare a Vico del Gargano, però prima di tornare a Vico del Gargano, come spesso facevamo tutti i frati, passavamo da San Giovanni Rotondo per salutare Padre Pio, però Padre Pio a volte era impegnato, a volte non c'era perché era nella stanza, quindi non lo si doveva disturbare, però io provai a salire, arrivai accanto alla cella numero uno, lì c'era il terrazzino e Padre Pio era proprio lì e quindi fui fortunato, disse Padre Marciano. Andai accanto a Padre Pio e c'erano altri due frati che chiacchieravano, infatti c'è una foto e lui si riferisce proprio a quella foto che gli venne scattata quel giorno, era insieme a due frati. Nel momento in cui si ragionava di qualcosa, disse Padre Marciano, Padre Pio si ferma, non parla più e comincia a fissare Padre Marciano, lo guarda e dice, in quel momento mi guardava, a quel punto io ho avuto pure un po' paura, perché quando Padre Pio cominciava a guardare le persone in quel modo, c'era qualcosa di bene o di male e io cominciavo a guardarlo anch'io e dicevo, mamma mia, chissà che sarà succedendo adesso. E invece dopo un po' Padre Pio ritorna tra sé, in quel momento dice, anche gli altri due frati si erano accorti di questo, ma erano in silenzio. Padre Marciano dice, ma io subito dopo vi di Padre Pio che ritornò in sé, tutto tranquillo come prima. E Padre Marciano chiacchierando con noi diceva sempre, ma chissà, forse Padre Pio avrà visto quello che io dovevo fare per lui, cioè consumare tutta la mia vita per portare il suo messaggio, per portare la sua spiritualità ai tanti devoti sparsi nel mondo e soprattutto ai suoi gruppi di preghiera.